secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie è too much incredibile grazie chiamo andrea che mi guida dai va bene mi guidi in cuffia sarà per questo che molti adolescenti si sono spostati su tiktok perché hanno trovato una piattaforma con regole meno severe e all'intaputa dei loro genitori un caldo cane no scusa non ce la faccio oggi green ho un mal di testa della madonna non sono in grado scusami patatino ci riaggiornavo però non proprio tutti i genitori noi naturalmente ne volevamo parlare con qualche pezzo grosso di tiktok ma l'ufficio stampa ha preferito inviarci via mail le linee guida della community che certezza lui è sempre voluto bene è sempre voluto bene lui c'è un caldo veramente devo fare qualcosa in questa camera va a scattare però non lo so ti convince magari il don non rispetto i miei il don non lo so il don perdonami mi sa che noi non siamo del web porca vacca ma siete un botto off dal mondo del web simone burrati ma che nome mi stai facendo cioè non ma sono su tiktok no sì allora scusami a me che per te mi appunto appunto non lo so io su tiktok adesso vi apro un attimo la home i miei tiktok io i miei tiktok sono super super puliti cioè c'è tutta roba super pulita nei miei direi che quel libro sta venendo tuttora molto studiato dagli storici per analizzare la vita e la mentalità di una persona che nonostante fosse chiaramente un pazzo furioso non si può negare abbia in qualche modo fatto una storia voglio dire per cui diciamo che da un punto di vista puramente culturale possiamo affermare che sia uno studio antropologico psicologico è contestualizzato è contestualizzato però Giuseppe se mi senti dal backstage non si può far vedere quel logo su questa piattaforma quindi hai capito no? sì sì metterlo in un culo? in articolo introduttivo in sì 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 senti Giuseppe a parte vabbè Diego Nasca che vabbè non hai voluto rispondere su su di lui ma abbiamo qua anche Andrea del 1988 tu non so se sai chi è Andrea del 1988 il ragazzo quello con le orecchie no veramente io con quelle orecchie l'ho preso per un frocio no no porra vabbè ero piccola avevo 15 anni e già eri così infatuata di questo ragazzo da regargli una macchina no ero pazza tra l'altro lui con la macchina quindi ne avrà avuti 30 allora Valentina no 18 19 io 15 allora purtroppo siccome se no è il segreto di Pulcinella e qua la chat sta spammando questa roba chi è Ludovica Trentin? eh no è una è una mia il mio film che vorrei girare è un porno con Baby Bonnie vabbè già da un po' di tempo hai questa ambizione questo volerebbe come porno io lo guarderei quindi vabbè allora secondo me è meglio che se tu guidi e ti fermano non lo fai mettere al posto tu quell'altro che sta a fianco a te che non ha secondo me è meglio che se tu guidi non canti non guidi oh porca miseria diciamolo e qualcuno mi faccia un applauso per la indiretta io che sono detentore comunque io ho detto se bevi e guidi grazie grazie io non ho mai specificato cosa bevi potevo bere acqua tanta acqua Rubino due litri no Freud non direbbe questo Freud ti ha detto un sacco di cagate no Freud ti ha detto un sacco di spionzate ti ho visto che cosa dai vabbè andiamo avanti perché dici tu che cosa io ho detto che io ho detto ti ho visto perché hai risposto tu andiamo avanti chiedono dalla chat ma quanto dura questa memoria adesso adesso vogliamo sapere però no 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 andiamo avanti no non senti più nulla tu non senti più nulla ho detto una roba in chat no no niente niente andiamo avanti ma questa memoria quanto dura cioè per esempio tu i numeri di prima te li ricordi ragazzo quello con le orecchie no veramente io con quelle orecchie l'ho preso per un frocio no no porco giuda prendo le distanze massime anche io me li stocio me li stocio questa è qui io mi stocio è vero è vero è vero è mattino Dio santo ma qua non se ne esce però qua rifiniamo tutti quanti i bandati per i prossimi 50 anni essere magari un pochino più spigliati con le donne hanno bisogno dell'alcol se no magari sono un pochino più timidi senti vuoi conquistare una donna si mischia la pisciata con il tè verde ma non credo sia la soluzione non credo sia la soluzione ideale però stavo dando like grazie Matti Cosa grazie Lalli grazie Colin Lorenzo grazie mille grazie Candy grazie Nelson grazie Sweet grazie Francesco grazie Gianjir grazie Storm vero verissimo grazie Necomi grazie Patata Calda no non volevo guardarti grazie Thomas grazie Pietro Mungi Guerra grazie Sapphire grazie Gabbo che sta leggendo ultimamente te lo faccio vedere anche io il libro eh ho molta paura potrebbe essere una versione del Kama Sutra vediamo vediamo no vabbè no 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 il mio era questo ma scusa se no ad andare avanti con la cosa dai buona serata salve signorina saluto carissima che figura di merda no ma dà con la scusa green no non puoi bravo Griban bravo complimenti era fatta era quella lì si era lasciata da quattro giorni non capisco cosa si è dato storia e addirittura anzi usiamo dei tipo paraocchi da tipo cavalli no per isolare il campo visivo perché meno distrazioni ci sono più ci concentriamo chiedono dalla chat t'ho visto ma ti ho visto no vai vai ti ho visto ti ho visto che cosa dai vabbè vabbè che dici tu che cosa io ho detto io ho detto ti ho visto perché hai risposto tu chiedono dalla chat ma quanto dura questa mela adesso adesso vogliamo vabbè se vuoi cominciare a dire qualcosa sulla tua dipendenza prego no dai ne iniziate voi dai iniziatevi prego datevi il contentino dai bevi banni qual è la tua dipendenza il cazzo bene rubino pulito pulito si non sporco rubino la mia dipendenza si hai mai bestemmiato hai mai bestemmiato hai mai bestemmiato sì o no in una chiesa davanti al prete hai bestemmiato in una chiesa davanti al prete no davanti al suore yes che disastro no ho capito ma non ti sei pentito no lo rifaresti lo rifaresti o no ho 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 che cazzo ridi non è una cosa bella no e che tattuaggio hai fatto un tatuaggio nuovo oppure perché nel porno cioè nel nel nella cioè nel va bene colpa del pollo ah di paolo ok ciao 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 ok ci siamo capiti ci siamo capiti va bene cosa c'hai una domanda cosa c'è oddio posso farti negro negro bravo bravo grande bro grandissimo simpatico con un dito nel culo che ti perfona bravo ti giuro te l'avevo detto bravissimo è counter island dovete dire monte è quello qua è bellissimo che dà proprio idea di qualcosa di veramente innovativo e grazie a questa piattaforma se fate il punto esclusivo 8pay avete la possibilità di donare attraverso le criptovalute e quindi io vi ringrazierò e andranno direttamente nel mio grandissimo wallet di metamask e tra l'altro hanno appena hanno appena aggiunto anche delle nuove funzionalità dove potete utilizzare anche altre altre chain non ci sono più le solite c'è la chain di prima era basata su Ethereum mi pare o adesso potete usare un po' di un po'